Si respira la vera aria della moita Questa è vera moita Questa è la Dragon Muay Thai Poco più giù della Tiger Tutto nella stessa via Ora purtroppo mi spiace che non mi ricordo il nome Però su internet è facile trovare Questo è il punto, diciamo, il ring, la parte di palestra Dove si allenano i loro atleti Sotto ci alleniamo noi farang Ma adesso penso che stiano facendo una lezione privata Perché non è orario di allenamento Come vi dicevo l'allenamento qui è abbastanza duro Si inizia con un po' di sacco Sempre seguiti dagli istruttori Sacco alternato nei momenti di riposo Sempre le flessioni Sempre con qualcuno che ti tiene d'occhio dietro Che ti abbaia dietro In modo da mantenere duro l'allenamento Dopo le solite cinque riprese Cinque riprese di Pao Sempre dure E infine sparring Sparring, Pao No, che cosa dico? Sparring oppure guanti E via dicendo In questa via è bello che praticamente Si possono trovare gli alloggi A fianco alle palestre Quindi per chi vuole allenarsi Direi che la zona qua di Shalong è un po' la migliore Meno che non preferite appunto la Simbi Che è comunque molto rinomata come scuola Allora lì alloggiatele alla Simbi Che si trova un po' più lontano dal mare Qua siamo proprio a 5-10 minuti dalla spiaggia E c'è proprio una via con tutte e tutte le palestre Lo stadio più grande è nella zona di Patong Che si trova una mezz'oretta da qua E buono Arrivederci dalla Drago Muay Thai Grazie a tutti